o the morning si qui sono le 11 e 9 minuti quando dico in questi casi certo non proprio mattina prestissima mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's march 17 2022 and it's a tuesday here in naples uh cloudy middle morning cloudy morning but very still right now 64 and 4 fahrenheit around 18 celsius and this means that non è quella isn't that they really 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 cold like in this this in this period and in fact io credo che we are going we feel this spring atmosphere and the rest in tra due tre giorni sarà primavera tra tre giorni quindi fa comunque diciamo abbastanza caldo leggermente caldo però io invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché impossibile ma quantomeno di combattere il freddo e questa cosa la dirò fino a sopraggiungere la primavera cioè praticamente da qualche giorno sì per quanto concerne il video sui pensieri lo faccio sempre separato da questo nel caso mi interessa quindi occhio sì anche se non credo che oggi lo faccia perché devo caricare dei video di pensieri di ieri l'altro ieri che ho fatto tempo non si riuscirà a caricare quindi gli unirò in un unico video che credo parranno come pensiero appunto del giorno oggi dico solo che è 17 in generale si dice che almeno qui non so se in altri paesi il 17 il numero della sfortuna anche se quando associato al venerdì quindi da questo punto di vista non ci troviamo perché è solo il numero fosse stato domani sarebbe potuto parlare di venerdì 17 curioso ci dovrebbe sapere se anche gli altri paesi è così oppure se solo un fatto italiano qualcuno nel caso me lo scriva nei commenti anche se è così and you all just see from the window I think that this after noon the temperature potrebbe scendere potrebbe salire potrebbe rimantenersi la stessa non lo possiamo sapere non siamo certo dei maghi but with this atmosfere it seems that It's afternoon, we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine But, io non mi fido, vedremo più tardi, vi aggiornerò poi nella descrizione Potrebbe sia venire il sole, potrebbe sia non venire, ma In this moment it seems that no Of no, but we will see Come dico la mia frase calda Ovviamente le cose posso sempre cambiare il momento all'altro, but solo, e su we will see Infatti, we will see, say this, so, from the mythical window, with the color of the curtain Non proprio bellissima, comunque, assia l'inquadratura a questa luce, comunque è bella And it's a green roller shooter, behind me, on the top, not visible, in fact, in the shot And finally, from a mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625 Un saluto davvero a tutti Ci vediamo al video pensiero, nel caso lo faccio, ma non credo, ho detto all'inizio O domani Grazie a tutti Guardate lo scopso Grazie a tutti